vediamo com'è possibile animare una forma lungo un tracciato che creiamo con un'altra forma prendiamo per esempio un ellisse un ellisse con il tracciato besie abilitato ed eccola qui a questo punto deselezioniamo tutto e creiamo una seconda questa volta senza il tracciato besie abilitato e con un riempimento diciamo finta che sia la terra la terra è blu a questo punto noi possiamo selezionare il tracciato all'interno di questo livello forma lo copiamo torniamo sul livello forma premiamo p per position è importante premere p perché altrimenti non viene copiato correttamente seleziono position e incollo a questo punto questo livello si può nascondere e qui come possiamo vedere abbiamo creato la terra con la sua orbita interessante notare come questi keyframe sono ancorati nel tempo vagante nel tempo significa che nel momento in cui io clicco e trascino la distanza tra questi keyframe rimane costante ora io posso disabilitare questa funzione vagante nel tempo posso disabilitarla e quindi qui diventano dei keyframe normali hanno già la funzione isis abilitata come si deduce dalla forma quindi in questo momento io posso prenderli e spostarli e vediamo che i keyframe si redistribuiscono una cosa importante da ricordare è che io in qualunque momento anche se li ho disabilitati posso tenendo premuto alt avendo selezionato tutti i keyframe e tenendo premuto alt posso mantenere il rapporto costante come se fosse abilitata la funzione vagante nel tempo invece se non tengo premuto alt sto semplicemente spostando tutti i keyframe insieme